ciao ragazzi oggi viaggio dintorni fa visita a seravalle nel frattempo visitando facciamo un po' visita nei vari negozi e vediamo di darvi qualche informazione anche piccola da condividere con noi in vari piazzette si possono trovare queste piccole curiosità che sono carine e simpatiche un po per tutti curiosi questi city car piccole parti mobili che comunque fanno la mini bar varie specialità gastronomiche a 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 Grazie a tutti. 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 Queste sono delle belle scarpe, fate bene, è uno sterlato leggero, ci sono sia in Gorotex che non, abbiamo provato un paio di scarpe, questi qui tessuti belli da donna, un bel design, fatto bene. Grazie a tutti. Dopo tanto camminare, dopo tanto camminare, ci prendiamo un bel caffè e 5 minuti di riposo e proseguiamo con le visite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e questo è un bel caffè. 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 Allora giustamente noi uomini andiamo a cercarci negozi più adatti, a me piace il reparto sportivo, questo negozio qui diciamo offre un po' di tutto, dal prezzo più basso al prezzo più alto, dalla qualità più bassa alla qualità più alta, a voi la scelta. Un po' tanto camminare non poteva mancare la parte dolce e qua siamo nel mio reparto preferito, tutti i dolci del mondo si trovano qua dentro, guardate che spettacolo. Tra l'altro offre caffè e cucchiaino di cioccolato. Continuando continuando andiamo alla Nike, beh qua c'è poco da dire perchè Nike è il nome mondiale, qua si trova di tutto, a voi la scelta. Qua basta girare, faccio un bel giro veloce veloce e vi faccio vedere tutte le possibilità delle offerte che ci sono. Tra l'albero del bambino nell'abbigliamento, poi l'adulto. Andiamo nella parte delle scarpe che diciamo per noi maschi è pure essenziale. Qua ci sono tutte le offerte, numeri rimanenti, che qualche offerta si trova. E andiamo a scovare qualche novità. Giù in fondo dalle casse troviamo il reparto calcio, che non vi spiego perchè sapete tutto. A parte running, la zona c'è sempre un bucho di cose molto belle nel fatti. E guardate la cassa che spettacolo. Nike numero uno. Allora uscite dalla Nike e cosa facciamo? Andiamo dalla concorrenza, dalla Puma. La Puma diciamo che fa un trend un po' più classico, non è proprio tecnico che va bene un po' tutte le età, tutte le taglie. Adesso entriamo dentro, andiamo a vedere che cosa ci offre oggi. Bene, reparto all'interno della Puma. Qua c'è un po' di tutto, più o meno assomiglia anche un po' alla Nike, all'Adidas e il trend che qua è sul giovanile. Qua reparto giovani, ci abbiamo di tutto, da bambino, dalle donne. Giriamo velocemente, classiche scarpe della Puma. Il design sempre quello. Anche perchè sono prodotti molto validi. Bene, non poteva mancare uno dei miei preferiti. Disegual. Colori, vivaci, stupendi, bello, bello, bello. Per le donne fa qualcosa di spettacolare che ti integra nel suo design voluto solo a guardarlo. Ha sempre dei colori molto vivaci. Ricorda molti colori latini e quando si ricordano i papagali con quei colori gialli, quel verde, è bellissimo. Guardate questo giubbottino qua, affomiglia un po' a stile Versace ma è completamente diverso. Ottima qualità, per la donna va molto bene, tutti i colori, può essere vestito con qualsiasi capo sia tra uno sport lusso o una serata per andare in discoteca. Molto bello, guardate questo giubbottino qua rosso, bello e un semi corto, lavorato bene, un semi pelle. In fondo a destra il reparto bambino, il reparto uomo, un po' più piccolo. Questo negozio qua è dedicato più alla donna. Colori comunque sempre belli, vivaci e c'è un po' di tutto. Bello, venite a vedere perché è un bel negozio, posso trovare anche delle belle occasioni. Guardate questo qui che bello, colori bellissimi, con bel marchio di seguale, come riconoscimento. Bene ragazzi, il nostro giro è finito, dall'hotel Seravalle vi salutiamo. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi sul canale YouTube. Ciao da viaggi d'intorno.